di ascoltare ok perfetto no no buon pomeriggio a tutti benvenuti a questo quarto webinar dell'ip sulla difesa sostenibile della dalle signore della vita qui con io sono federica bove segretaria tecnica dell'associazione italiana per la protezione delle piante e qui con me ci sono il professor Gianfranco Romanazzi vicepresidente dell'IPP ci sono anche Arturo Caponero che fa parte del consiglio direttivo dell'associazione ed è appunto responsabile della comunicazione IPP e poi ci sono il moderatore di questo webinar il professor Salvatore Germinare dell'università di Foggia e il relatore il dottore Enrico Marchesini di Agrea per lascio subito la parola al professor Gianfranco Romanazzi per eventuali per interagire con la piattaforma vi ricordo che potete usare il pannello di controllo a destra nella sezione chat e per chi è interessato ai credit formativi per l'ordine dei dottori agronomi e forestali ricordo che ci sarà un modulo apposito da compilare alla fine del webinar a te la parola Gianfranco grazie Federica io porto un breve saluto diciamo da parte dell'IPP e dicendo che il consiglio direttivo ha proposto una serie di webinar proprio per essere in contatto sia con i soci sia con i soci potenziali che potrebbero essere interessati ad aderire all'associazione il numero di soci sta crescendo anzi Federica potrebbe mettere in chat il link per chi volesse associarsi quindi ne abbiamo fatti quattro il primo sui vitigni resistenti il secondo sui modelli previsionali il terzo su una nuova malattia degli agrumi che al momento per fortuna non è presente in Europa però sappiamo che queste malattie possono arrivare e creare grossi problemi e oggi c'è quello sulle pignole della vita quindi sono una serie vedete c'è un buon interesse anche da parte di coloro i quali seguono il canale youtube di IPP e magari Federica può anche diciamo postare il link a questo canale youtube per chi volesse rivedersi webinar che si è perso e su questo canale verrà postato sia il video di questo webinar sia il video del prossimo webinar tenuto dal professor salvatore germinara dell'università di foggia proprio sull'uso dei semiochimici in agricoltura e prendete nota sarà il 27 agosto alle 17 e quindi non posso che augurarvi una buona visione di questo webinar e passo la parola al professor germinara che potrà introdurre moderare l'incontro buona serata grazie grazie Gianfranco grazie a tutti per aver scelto di seguire questo webinar di oggi pomeriggio che appunto parlerà della difesa sostenibile del della vite dal dal latinole dalle tignole e quindi grazie per essere con noi questo argomento è un argomento diciamo abbastanza scottante diciamo difendere la vita da questi insetti come sapete non è mai stata una cosa molto semplice però negli ultimi anni soprattutto stiamo assistendo ad una drastica riduzione anche di alcuni principi attivi ammessi su questa cultura questo diciamo quindi ha creato un po' di disorientamento negli agricoltori abituati a seguire determinate strategie va anche detto però che per fortuna l'attività di ricerca e di sperimentazione che si conduce anche nel nostro paese ha portato ad un consolidamento di alcune tecniche di difesa innovative e a basso impatto come la confusione sessuale alcuni diciamo dei principi attivi di origine microbiologico prodotti comunque derivati da microrganismi che vanno sempre più entrando diciamo nell'uso corrente oltre a questo abbiamo avuto anche un consolidamento anche di quelli che sono i mezzi per il monitoraggio di questi fitofagi il che diciamo non solo feromoni ma anche modelli previsionali che consentendo di seguire in maniera molto dettagliata quello che è l'evoluzione della popolazione in campo consentono di ottimizzare il timing di queste molecole quindi il momento ottimale in cui eseguire i vari trattamenti con molecole queste che sono dei prodotti vengono definiti tecnici cioè hanno delle finestre applicative che sono molto diciamo molto ristrette e quindi se non facciamo un buon monitoraggio poi non riusciamo a sfruttare al meglio quelle che sono le loro caratteristiche insetticide ora per parlare di tutto questo oggi abbiamo invitato un carissimo amico è enrico marchesini che ringrazio per aver accettato di tenere questo seminario enrico è un collega entomologo è un dottore di ricerca in entomologia presso l'università di padua allievo del professor zangheri quindi c'è uno dei padri un po dell'entomologia agraria nel nostro paese enrico è anche il come dire uno dei socio fu uno dei fondatori del centro studi agrea che tra le varie attività ha anche quella di avere un centro disagio quindi ha sicuramente in anteprima conosce quelle che sono le diciamo le molecole che arriveranno in futuro quindi enrico è anche un grosso conoscitore degli insetti della vita ho avuto più volte modo di parlare con lui ci siamo incontrati in vari in varie occasioni quindi è sicuramente la persona più accreditata per poter parlare di quello che sono gli indirizzi della della difesa della vita dall'attacco di queste tignoli quindi io non voglio tracciato questo breve profilo di enrico per dire lo spessore della persona che abbiamo quindi una persona di grande esperienza che sicuramente ci darà delle risposte da questo punto di vista e quindi ti ringrazio ancora enrico ti cedo subito la parola buonasera a tutti ringrazio l'associazione italiana protezione delle piante per questo invito ringrazio salvatore per la presentazione forse non del tutto meritata ma eccomi qua e sono contento sono contento di partecipare a questo incontro perché la protezione delle piante diventa sempre un aspetto molto importante della coltivazione e nell'ambito della viticoltura lo è in modo particolare quindi direi che se dite possiamo anche cominciare ecco io condivido allora lo schermo e per dirvi appunto ecco che parleremo di tignole della vite e di difesa sostenibile voi sapete che le tignole della vite rappresentano sicuramente gli insetti chiave in viticoltura non solo diciamo per il fatto che provocano dei danni diretti sulla produzione ma anche i danni sono indiretti dovuto allo sviluppo di botrite marciumi che compromettono la qualità delle uve ecco noi cercheremo di parlare in questo incontro delle specie principali di tignole di quelle anche secondarie di carpofagi secondari tratteremo anche qualcosa che riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici sulla fenologia di tignoletta l'impiego dei modelli previsionali nella difesa integrata naturalmente sull'applicazione dei mezzi di difesa sostenibile faremo anche un cenno apriremo una finestra sull'attività dei limitatori naturali nell'agroecosistema vigneto e quale è il ruolo della biodiversità funzionale delle infrastrutture ecologiche nel mantenimento degli equilibri proprio legati alle tignole della vite ecco allora si diceva prima che i mezzi di difesa diciamo tra i mezzi e di utilizzo dei ferromoni sessuali sono sicuramente il monitoraggio attraverso le trappole e volevo farvi vedere questo l'andamento delle catture nella regione veneto che è la regione dove noi operiamo in sei anni dal 2014 al 2019 e come potete vedere da questi dati c'è certe una variabilità negli anni ma sostanzialmente abbiamo la presenza di quattro picchi di volo che sono decisamente separati netti precisi ecco ci chiediamo come variano negli anni i livelli di attacco a parità di condizioni allora guardate abbiamo preso un testimone non trattato che lo stiamo seguendo dal 2008 sono 12 anni quindi pensate lo stesso vigneto gli stessi filari con lo stesso metodo di rilievo e qui vi mostro i dati sulla seconda generazione di tignoletta quella che si sta sviluppando in questi giorni e allora voi vedete i dati espressi sia come percentuali di grappoli colpiti in rosso istogrammi in rosso in verde invece il numero di larve per grappolo vedete che c'è una variabilità nello stesso nei anni diversi il dato è diverso e ci chiediamo c'è relazione tra l'indice di attacco e le catture perché ci interessava capire perché storicamente i testi ci dicevano che non è una vera relazione e infatti guardate il numero totale di catture messo in confronto con l'indice di attacco non è una relazione stretta la retta di regressione non è importante non è significativa perché uno potrebbe dire beh con più alto è il numero di catture e più alto potrebbe essere l'attacco da parte delle larve ma invece ci sono altri fattori che possono incidere sulla densità della popolazione larvale e possono essere fattori abiotici come il clima e fattori invece biotici come i limitatori naturali volevo farvi vedere l'ultimo anno il 2019 diciamo qual è stata la fenologia nei nostri vigneti allora vi dicevo questi quattro picchi di volo netti a cui corrispondono quattro momenti di ovide posizione vedete gli istogrammi in rosso e poi in verde la presenza delle larve e infine poi e la presenza delle crisalidi il 2019 però nelle nostre aree è stato un anno particolare perché abbiamo avuto un periodo di fine aprile mesi di maggio particolarmente piovoso con temperature soprattutto crepuscolari piuttosto basse e queste hanno inciso in maniera importante sullo sviluppo della tignoletta perché guardate abbiamo visto da più anni di osservazioni di studi che le piogge soprattutto crepuscolari che si verificano nel momento di volo degli adulti di accoppiamento e di ovide posizione della parte delle femmine ritardano e le ovide posizione stesse sembrerebbe proprio che insomma questi l'accoppiamento durante le notti piovose non piace molto a questi insetti e quindi tendono a ritardare questo ritardo può essere anche di 56 giorni e quando si verifica sia sulla prima generazione che sulla seconda generazione e questo è molto importante tant'è guardate che stiamo anche valutando poi quando vi parlerò dei diciamo dei modelli matematici di inserire come input all'interno del modello nell'algoritmo non solo le temperature ma anche le piovosità le precipitazioni di un certo rilievo proprio nel periodo degli accoppiamenti e delle ovide posizioni comunque potete vedere che diciamo è netta la presenza di una quarta generazione che nei nostri ambienti si sviluppa a partire dai primi di settembre e voi direte beh ma i primi di settembre che uva c'è nei primi di settembre ormai abbiamo l'uva tardiva come nei nostri casi per esempio in valpolicella abbiamo uve tardive e quindi queste ovide posizioni sono presenti sull'uve che sono prossime alla vendemmia e possono le larvette perforare l'acino dell'uva proprio in prossimità della vendemmia con lo sviluppo di marciumi e botriti ecco qua vi dicevo dei modelli matematici per lo studio della dinamica di popolazione allora e sono degli strumenti che sono previsti dalla difesa integrata il nostro piano di azione nazionale prevede proprio l'impiego non solo delle trappole ferromoni ma anche l'impiego di questi modelli matematici naturalmente per strutturare un modello matematico prima bisogna conoscere la biologia della specie in questo caso della tignoletta la lobese botrana nome scientifico ma avere anche dei dati di monitoraggio direttamente nei vigneti e avere dei dati meteo validati quando io ho in mano tutti questi dati posso con globali all'interno di un modello matematico il quale praticamente mi sputa fuori mi da dei report che possono essere dei modelli temporali quindi lo sviluppo degli individui nel tempo in certi casi anche per certi insetti dei modelli spazio temporali che possono essere importanti per capire per esempio di un insetto nuovo quale può essere la rapidità di diffusione in una determinata area questo è per esempio l'algoritmo del modello matematico demografico per la tignoletta e perché naturalmente è un po articolato e è importante perché questi modelli di simulazione sono in grado di trasformare i rapporti che intercorrono tra la cultura l'aversità l'ambiente e a diciamo descriverli all'interno di equazioni matematiche ecco naturalmente questi modelli possono riguardare lo sviluppo di uova larve pupe e questo è il modello fenologico e perché fa previsioni sull'andamento di diversi stadi dell'insetto in base alla temperatura ma i modelli ormai tendono ad essere tutti di tipo demografico perché permette questo di ottenere in ogni momento il numero di individui dice a cui c'è un stadio di sviluppo quindi uova larve pupe eventualmente adulti però in questo caso si deve partire dal numero degli individui presenti un determinato momento inserire questo dato ritarare tutto il modello farlo girare e poi in base naturalmente alle temperature sputa fuori questo indicazione naturalmente bisogna valutare se il modello che è stato strutturato fitta con i dati reali in campo e quindi c'è tutto uno studio di validazione del modello che si fa in determinate area un determinato vigneto studiando la fenologia dell'insetto in maniera molto precisa ed è quello che è stato fatto in questi ultimi anni ecco qua volevo presentarvi un esempio di questi modelli i modelli per esempio che mette a disposizione orta nel suo servizio questi dati sono attuali del momento di un vigneto nella provincia di brindisi quindi parto dal sud e potete vedere che come si legge un dato di questo tipo la prima generazione di tignoletta vedete che si è sviluppata completamente siamo partiti dalle crisali di svernanti poi abbiamo avuto gli adulti che hanno completato lo sviluppo le uova linea diciamo verde più scura la presenza e lo sviluppo delle larve e crisali di e la prima generazione si è conclusa al momento attuale dove siamo siamo lo sviluppo della seconda perché addirittura guardate gli adulti hanno completato il loro sfrafallamento e il volo tant'è che nelle trappole a ferromoni diciamo il numero di catture è in fase assolutamente calante anche se quest'anno c'è stato diciamo così una scarsa omogeneità di volo e di numero di catture ma ci sono state delle disformità delle stop e delle riprese successive comunque insomma al momento ormai siamo in fase conclusiva siamo in fase conclusiva anche dell'ovide posizione e come vedete al momento attuale la popolazione è rappresentata diciamo così per la maggior parte da larve ancora ma sono comparse le crisali di e quindi si sta completando la seconda generazione sta sviluppando se noi ci trasferiamo nel veronese e vediamo che la situazione è leggermente più in ritardo rispetto al sud e questo naturalmente riguarda proprio lo sviluppo delle temperature e le sommatorie termiche perché questi modelli si basano sulle sommatorie termiche in base 10 cioè dalle 10 temperatura di 10 gradi in poi e vedete che in questo caso abbiamo completato proprio lo sfarramento degli adulti si è in fase di completamento dell'ovide posizione da parte delle femmine e siamo in fase di sviluppo delle larve le crisali di diciamo che forse qualche rara crisali di potrebbe esserci ma ancora no ecco vedete quindi che siamo in questi giorni nell'ambito dello sviluppo della seconda generazione ma abbiamo visto diciamo la prima generazione quella che viene dalle crisali di svernanti volevo farvi vedere l'uovo l'uovo che ha anche lui un suo sviluppo delle fasi embrionali di sviluppo questo è l'uovo lattiginoso quello che appena deposto nella prima generazione sulle brate fiorali questo luogo occhi visibili il testa nera dove si intravede già la capsula cefalica all'interno della larva dell'uovo stesso e il corio di luogo schiuso mi collego e faccio vedere un piccolo filmato che spero possa aiutarci a questi questi aspetti e questo riguarda la prima generazione vedete brate a fiorale uovo lattiginoso deposto sulla brate avete si tratta di un uovo lenticolare con un corio né sotto l'uovo stesso e che viene deposto vedete questo è il grappolino in fioritura eccolo qui è proprio sulla brate a fiorale quasi esclusivamente sulle brate fiorali a questo uovo lattiginoso base la temperatura ecco qui addirittura sono stati deposti tre molto vicini e questo vedete l'occhio visibile ci sono questi due puntini e lo stadio successivo che noi attraverso il microscopio riconosciamo questo invece la capsula cefalica dell'uovo testa nera questo è l'uovo schiuso in questo caso vedete un uovo lattiginoso ma anche un uovo scuro questo uovo scuro qui è indicazione che è stato parassitizzato da specie del genere tricogramma ecco che da un uovo poi non parassitizzato esce una larva questa è la lava naturalmente di prima età e cosa fa questa queste larve cominciano a nutrirsi ea dare origine a un caratteristico glomerulo cioè dei residui fiorali che vengono diciamo stretti con dei fili sericei proprio per fare creare un micro ambiente per lo sviluppo proprio della larva che possiamo vedere in questo caso lo sviluppo sempre stiamo parlando sempre della prima generazione di tignoletta qui ripartiamo dalla larva di prima età perché l'età larvali sono cinque quindi fa delle mute questa è una larva l2 cioè di seconda età quindi vuol dire che la larva ha già fatto una muta e e poi successivamente dalla larva di seconda età che comincia comunque l'attività trofica ecco la larva un po più grande siamo già alla l3 che comincia a produrre il suo nido sericeo diciamo dove questa è già una l4 la caratteristica capsula cefalica bruna la placca protoracica bruna con la parte diciamo il bordo posteriore più scuro sempre una larva di l4 che produce questi fili di seta con le ghiandole sericipare collegate all'apparato boccale ed ecco qui la larva matura guardate come tesse e tira i fili di seta perché la larva matura deve produrre il bozzoletto in certi casi questa larva diventa crisalide nel nido nel glomerulo nel grappolo ma in certi altri casi pensate la larva matura si trasferisce dal grappolo e va a incrisalidare sotto la ritidoma questo è la crisalide appena formata ancora verde questa invece una crisalide già più bruna perché il l'esoscheletro si è più il robustito e questa è un'altra crisalide ecco qua e poi però c'è lo sviluppo della seconda generazione che attacca diciamo l'acino ormai in fase di ingrossamento e qui vedete delle larve e possiamo vedere sempre un piccolo video che ci aiuta a capire vedete questa larva che comincia sull'attività di alimentazione con l'apparato boccale masticatore in grado di lacerare i tessuti provocare diciamo delle gallerie che sono facili e sono più scure sullo sfondo diciamo verde chiaro dell'acino e quindi sono ben visibili da lì svilupperà e formerà naturalmente sempre una crisalide all'interno degli acini erosi una larva così può danneggiare anche 45 acini contigui prima di riuscire a arrivare alla crisalide abbiamo visto che ci sono degli stadi di sviluppo larvali e diciamo che la determinazione degli stadi si fa misurando soprattutto la capsula cefalica perché è la parte diciamo della larva più più sclerificata rispetto al resto del corpo e misurando proprio il diametro della diciamo la larghezza della capsula cefalica è stato possibile individuare i cinque età larvali volevo dirvelo perché guardate la distribuzione nel tempo delle età larvali e voi potete vedere che abbiamo ecco le larve l1 di prima età alla primavera della prima generazione della seconda della terza e della quarta questo per dirvi che in realtà nei nostri ambienti come nel centro sud ormai la tignola svolge quattro generazioni vi dico questo perché questo cambiamento di biologia dell'insetto è sicuramente una conseguenza dei cambiamenti climatici che stiamo registrando anche nei nostri ambienti nei nostri vigneti ed infine abbiamo diciamo la terza e anche quarta generazione dove ormai l'acino è già prossimo alla maturità è già comunque invaiato e in questo caso il danno che può provocare una larva è un danno importante perché vedete che la larva diciamo può produrre sviluppo di botrite marciume acido e quindi essendo prossimi alla c'è un danno diretto ma anche un danno indio su questa sui nostri vigneti sui nostri grappoli allora negli ambienti del nord tanto per dire che non abbiamo solo tignoletta abbiamo anche altre specie di cignola per esempio abbiamo la tignola leopoicilia ambigüella che vedete l'adulto si differenzia dalla tignoletta perché a queste due fasce scure trasversali sulle ali anteriori che sono molto caratteristiche però in alcuni ambienti abbiamo anche le ulia argirottenia liungiana si tratta di una tignola molto polifaga cosiddetto ricamatore ed infine più recentemente ma sempre più diffusa sono delle specie di lepidotteri ficitini in modo particolare di e festia ecco nel nord abbiamo questa e festia e come le festia parassitella anche le larve hanno delle caratteristiche diverse perché per esempio la larva di tignoletta avete visto il capo bruno e la placca protoracica bruna con un bordo posteriore più scuro mentre nella tignola il capo e il protorace è più scuro e bruno scuro proprio nelle ulia invece è verde chiaro invece nei ficitini in generale vedete la placca protoracica è particolarmente più scura e anche la crisalide possono essere leggermente diverse così pure il tipo di danno che fanno perché tignola e tignoletta creano delle gallerie che vanno direttamente dentro l'acino mentre ulia essendo un ricamatore diciamo fa delle erosioni più superficiali sia sull'acino che sul racchide invece i ficitini hanno una rosura che provoca un disfacimento dei tessuti è un si vede proprio un danno un po diverso e ecco qua la tignola abbiamo diciamo così un ormai una coincidenza tutto sommato nei voli della tignola e della tignoletta e rapidissimamente sempre vi faccio vedere ecco qua il danno da tignola che assomiglia tantissimo però guardate questa larva giovane e la placca portoracica scura e questo è indice che non si tratta di tignoletta ma in questo caso si tratta proprio di tignola e o poi ciglia ambiguella seconda generazione vedete già fuori su acini quindi ecco altri carpofaci secondari per esempio queste festie vi faccio vedere questa larva perché ci può aiutare a vedere a capire guardate la presenza di questi puntini scuri alla base delle setole questi pinnacoli scuri quando vedete questi potete dire che non si tratta di una tignola nella tignoletta ma è un piralloideo cioè questo caso si tratta proprio di ficitini e ricordate che i danni che provoca questa larva sono anche danni diretti perché in certi casi convive o vive all'interno di acini danneggiati da tignoletta ma in altri casi e sono delle hanno una tendenza gregaria e provocano dei danni diretti proprio quando vedremo in prossimità della vendemmia raro è la presenza di questi questo tortrici della spargo notti spilleriana che però in certi casi è presente è una larva che ha un comportamento di solito molto nervoso e ha una struttura con vedete molto diversa provoca sempre comunque dei danni diretti sul grappolo questa qua e poi abbiamo la caccia morfa pronubana ma che è sempre meno importante ecco allora vedete questo si tratta di eulia perché guardate capsula cefalica e placa protoracica molto chiara i danni sono sicuramente e vedete di erosioni superficiali non solo degli acini ma anche del racchide e questa eulia invece i ficitini che vi dicevo vedete si compaiono in agosto soprattutto la specie più importante i nostri ambienti e le feste unicolorella vd ella sono considerati carpofagi secondari guardate in questo caso sverna non come crisalide ma come larva matura e solo in primavera la larva matura riparata sotto il ritidoma della vite si trasforma in crisalide e da origine all'adulto e sono sono diciamo specie che hanno bisogno ancora di studia di essere studiate soprattutto per capire le prime generazioni dove caspita vanno cosa fanno perché non è ancora molto chiaro però in linea generale la difesa per le varietà tardive coincide con i trattamenti che si fanno sulla terza generazione di tignoletta sono stati fatti anche degli studi filogenetici basandosi sulle analisi molecolari su analisi pcr del dna mitocondriale che poi alla fine è quello di nia mitocondriale quello più stabile una popolazione perché quello che deriva sempre dalla madre e attraverso il barcode è stato possibile individuare la presenza di queste specie e ci sono anche delle caratteristiche morfologiche che ci aiutano per esempio a distinguere il genere festia dalle genere tocmi e lois perché il pinnacoli del meso torace sono discuri e completamente chiusi vedete anello chiuso completo il caso di e festia invece in caso di ectomi e lois è un anello aperto oppure se dovessimo andare a vedere la specie di e festia bisogna andare a guardare la distribuzione delle setole nell'ottavo rite addominale ma sono casi particolari però volevo accennarvi al fatto perché se nel nord diciamo italia come le pidotteri ficitini abbiamo le festia se noi andiamo a vedere invece nel centro sud italia soprattutto nelle zone littorane abbiamo una una cugina di queste specie e che è la criptobabes nidiella la tignola rigata e questo sta diventando un bel problema la tignola regata perché intanto da cominciare una specie molto polifaga circa 80 piante ospiti sia erbacee arbustive arboree poi addirittura fa può svolgere fino a quattro generazioni anch'essa come gli altri ficitini sverna come larva matura e si trasforma in crisalde in primavera e poi c'è un'altra particolarità è chiamata anche tignola delle melate perché ha una un fenomeno di commensalismo con il planococcus ficus la cociniglia farinosa della vite perché va a mangiare la melata di questa però i danni che sta facendo appunto sono danni molto importanti perché si chiama rigata proprio perché la larva matura l5 vedete è caratterizzata da delle striature longitudinali ben presenti anche in questo caso si usano i ferromoni le trappole ferromoni per seguire il monitoraggio degli adulti e il maschio ha una caratteristica molto precisa ben riconoscibile perché ha dei processi corniformi sul terzo antenomero che ci aiuta a non sbagliare sulle identificazioni di questa specie anche in questo caso i danni sono particolari perché le queste larve che si che vivono all'interno dei grappoli attaccano non solo l'acino vero proprio ma anche i racchi dei pedicelli interrompendo il flusso della linfa e causando proprio un appassimento un dissecamento degli interi grappoli quindi con danni molto importanti quindi non è che bisogna trascurare sono specie che cominciano a essere loro importanti è anche in questo caso sono specie assolutamente mediterranei che amano temperature importanti per cui anche questo lo sviluppo di questi diciamo insetti queste specie è un indice delle variazioni climatiche che si stanno verificando in nostri ambienti però i viticoltori devono difendere il loro raccolto facendo i conti con diversi fattori un fattore sociale ormai abbiamo una legislatura sempre più attenta alle problematiche dell'ambiente della salute che limita l'impiego di fitofarmaci il professor giminara nell'introduzione ha detto appunto che la direttiva c'è 128 il pan la difesa integrata ha eliminato tantissime insetticidi che utilizzivamo per queste tignole però dobbiamo fare i conti anche con fattori economici perché abbiamo la necessità di vendemmiare uve sane destinate alla produzione di vini prestigiosi in annate certe volte difficili in situazioni commerciali anche difficili quindi dobbiamo lavorare assolutamente bene in più dobbiamo tener conto anche di fattori ecolodici cioè dobbiamo mettere in atto tutti una serie di mezzi di difesa che siano efficaci ma che nello stesso tempo siano rispettosi dell'ambiente e degli equilibri naturali insomma dobbiamo combinare insieme tutti questi fattori e parlare proprio di difesa sostenibile che lo possiamo fare come è stato detto prima nell'introduzione proprio con due mezzi di difesa biotecnologici molto importanti la confusione sessuale e l'utilizzo del batter entomopatogeno bacillus turingiensis partendo proprio da questo batteri si tratta di un microrganismo molto piccolo invisibile ad occhio nudo naturalmente che all'interno della cellula allungata è un bacillo quindi una cellula batterica allungata produce un'endotossina che è un cristallo proteico bipiramidale e produce anche che è proprio la tossina per gli insetti oltre all'endospora che è una forma di conservazione insomma quando la larva di tignoletta si alimenta di acini trattati con bacillus turingiensis digerisce le spore ma anche il cristallo proteico bipiramidale in presenza di un ph molto alcalino che è maggiore di 9 all'interno del parato digerente della larva e la larva si intossica praticamente smette di alimentarsi e nel giro di poco tempo le spore batteri che invadono tutto il corpo della larva la larva muore per setticemia nel giro di 12 giorni si tratta di un insetticida molto efficace nei confronti delle tignole ea imbat ea impatto ambientale praticamente nullo sul discorso della confusione sessuale io non ne parlo perché avete capito che il professor germinara verso la fine di agosto parlerà un par proprio con un seminario dedicato di semi chimici e dell'applicazione di questi anche nel vigneto quindi con il discorso della confusione sessuale un sistema che ha avuto uno sviluppo in questi ultimi anni molto importante con dei risultati di efficacia molto importanti e che rappresenta sicuramente uno dei principali mezzi di difesa integrata e sostenibile alle tignole della vite sia tignoletta che tignola ecco della vite quando vengono applicati allora i bacillus vengono applicati a uovo testa nera e dopo alle prime larve sia di seconda che di terza generazione e infine volevo accennarvi il discorso dei posizionamenti degli insetticidi nella difesa integrata ricordandovi quello che c'è rimasto allora tra le sostanze attive che vanno cosiddetti ovicidi che vanno applicati proprio alla deposizione delle uova abbiamo il clorantaniliprole l'indoxacarb il metoxifenozide e il tebufenozide e che sono prodotti che diciamo anche dall'indicazione di etichetta vanno posizionati proprio all'ovide posizione e come si diceva prima sono prodotti che hanno diciamo un momento un time di applicazione molto preciso quindi è molto importante seguire monitoraggio e la fenologia di tignoletta in una determinata area perché sbagliarsi sull'inizio video posizione è molto facile bisogna andare in campo e seguire quello che succede naturalmente facendoci aiutare da altri strumenti come l'andamento delle catture nelle trappole a ferromoni e come abbiamo visto dalle modelli previsionali che ci aiutano a capire quando inizia l'ovide posizione quando siamo nel momento più importante dell'ovide posizione quando inizia la schiusura delle larve ci sono anche altri insetticidi che vanno applicati invece appena prima della schiusura delle larve c'è uovo testa nera l'abbiamo visto prima e sono il bacillo sturingensi di cui vi ho appena parlato ma anche altri insetticidi come l'emamectina benzoato lo spinetoram e lo spinosad naturalmente poi alcuni prodotti vanno ripetuti come il solito bacillo sturingensi fa un seconda applicazione così come spinosa si fa una seconda applicazione quando c'è la nascita delle larve quindi vedete che se noi guardiamo la seconda generazione praticamente la difesa è già stata applicata sulla seconda generazione perché essendo che si tratta di larve e le due e le tre diciamo potrebbe essere ancora qualche insetticida larvicida ma sostanzialmente la difesa è già stata applicata per la seconda generazione però abbiamo visto anche i fattori ecologici cioè nella scelta delle strategie di difesa dobbiamo puntare su metodi efficaci ma nello stesso tempo rispettosi di equilibri naturali e allora volevo proprio aprirvi una finestra sugli antagonisti naturali della tignoletta della vite perché ci siamo accorti da studi che facciamo da ormai decenni che la dinamica di popolazione della tignoletta è regolata da fattori biotici e abiotici tra i fattori viventi abbiamo i parassitoidi predatori e i microrganismi patogeni però guardate i tassi di mortalità e che sono imputabili al complesso di questi antagonisti abbiamo visto che sono densità dipendenti cioè dipendono dalla quantità dalla densità di popolazione della tignoletta dipendono anche dalla generazione se colpiscono la prima la seconda la terza generazione dipende anche dall'ambiente circostante quindi dall'agro ecosistema vigneto e da quello che ci sta intorno e dipende naturalmente dalle strategie di difesa perché è ovvio che se io faccio degli inseticidi che sono particolarmente tossici nei confronti di questi antagonisti naturali blocco la loro attività guardate questa è la lista dei parassitoidi che noi abbiamo trovato nei vigneti studiando è una lista più di 30 specie sono i menotric neumonidi braconidi calcidoidei o teromali di olofidi però naturalmente ve ne racconto solo qualcuno guardate questi sono i tassi di partizzazione sulla prima generazione quella antofaga che abbiamo visto prima va sui fiori si tratta di una mortalità certe volte importante perché arriva il 50 per cento di mortalità legato a che cosa ai parassitoidi e qui guardate la lista di parassitoidi ma anche i predatori ai virus a un virus in particolare che di cui vi faccio vedere prima dopo e di che virus si tratta allora guardate e parliamo di alcuni di questi di questi parassitoidi ora vedete questa è una larva matura di tignoletta ma vedete che però all'esterno del corpo della larva che chiamiamo vittima c'è una larva molto più piccolina quindi si tratta di un parassitoide che vive all'esterno ectofago e che si sviluppa e poi questa larva da origine alle pupe eccole qua con gli occhi rossi per poi da origine all'adulto è un calcivideopterum alide una vespettina molto più piccola si chiama colpoclipios florus e vive gregaria sugli stadi larvali ecco qui vedete proprio qua un colpoclipios florus ormai larva matura su una larva però voi mi direte ma che larva è quella lì e abbiamo viste prima la differenziazione vedete il capo che è verde chiaro la placca protoracica verde chiara e infatti non si tratta di tignoletta questa ma si tratta di eulia l'argirotenia lungiana perché questa specie è polifaga va anche sull'eulia poi abbiamo specie come il campoblescapitator che è un imenotero icneomonide guardate la femmina ha un uovo oppositore vedete molto lungo perché pensate deve andare a infiggere l'uovo dentro il corpo della larva che però nella prima generazione si trova dentro il glomerulo quindi ha un lavoro di precisione da fare questo invece il maschio questo guardate della larva rimane la capsula cefalica ben al poco altro perché tutto questo invece è un iperparassitoide il parassitoide del parassitoide si chiama frigomalus crisus è un pteromalide e qui abbiamo invece un uovo vedete scuro rigonfio nero qui sono i fori di sarfallamento e questo è l'adulto di tricogramma perché ci sono delle specie varie di tricogramma che colpiscono le uova soprattutto di prima generazione e guardate che la percentuale di presentazione che noi troviamo varia dal 10 al 25 per cento insomma non è male certe volte può aiutare a contenere un'altra cosa che può contenere è un predatore vedete questa si tratta di una larva di un ditero sirfide santandrum contus l'adulto è una diciamo è l'adulto è una moschetta che però si mimetizza a le bande nere e gialle perché vuole sembrare un imenottero apoideo questo per diciamo non farsi predare comunque queste larve sono in grado di alimentarsi di uova e di larve piccole di tignoletta ma poi guardate quando si vanno a fare i rilievi sulla prima generazione e capire com'è la situazione si aprono questi glomeruli e spesso si trovano all'interno delle larve che sono morte flaccide vedete in questa situazione soprattutto la parte del meso torace si trova rigonfia e con colorazioni alterate come mai si tratta vedete di una di una sinergia di una sinergia tra un virus quello della poliedrosi citoplasmatica e un protozo microsporide la pleistofora leggeri praticamente il protozo debilita la larva poi entra in ballo il virus che porta alla morte queste larve soprattutto di prima generazione ma anche di seconda con tassi di mortalità che sono anche superiori al 20 per cento quindi molto interessante la mortalità passiamo alla seconda generazione vedete la mortalità in questo caso è più bassa siamo verso il 21 per cento però la corte di parassitoidi è piuttosto ampia e ne abbiamo di diverso tipo per esempio la scogaster quadridentata che è un braconide che è vive all'interno del corpo della larva qui avevamo pensate una bozzoletto abbiamo aperto abbiamo trovato un altro bozzoletto molto più leggero vedete è aperto quello una larva abbiamo detto certamente questa non è una larva di tignoletta ed infatti è la larva del suo parassitoide questo è l'adulto del braconide quadridentata quadridentata perché il qua nel nel torace ha quattro dentini caratteristici l'adulto e poi abbiamo trovato dei mostri come questo perché guardate della larva c'è la capsula cefalica e la coda perché né all'interno del corpo della larva si è formato una pupa che è la pupa della phytomipteranigrina possiamo chiamarla anche la mosca nera assassina eccola qui perché è un parassitoide proprio del è un diterotachinide parassitoide dell'epidotteri e infine abbiamo la terza generazione dove abbiamo anche qua dei tassi di mortalità intorno anche al 56 per cento quindi molto particolari qui abbiamo delle specie importanti questo è il diterotus inflexus questa è una femmina è la specie più diffusa e importante tra gli menotti pneumonidi come parassitoide della tignoletta della vite qui vedete l'accoppiamento la femmina che con le antenne tasta e riconosce la vittima la spoglia inarca l'addome e in fila dopo il depositore all'interno del corpo della vittima si sviluppa e all'interno mette l'uovo questo è stato tirato fuori dal corpo della vittima si sviluppa poi una larvetta dentro il corpo che invade alla fine tutto il corpo della crisalide si tratta di una larva che non ha occhi perché non deve vedere all'apparato l'apertura boccale chiusa da due mandibole perché vive nel dove praticamente dentro nel cibo qui vedete ormai che all'interno della crisalide si sta sviluppando la pupa di quello che sarà il parassitoide vedete la testa gli occhi composti i bozzi alari il torace l'addome eccolo qua e naturalmente pensate che il meconio gli escrementi di questa larva li fa solo quando ha finito di svilupparsi e si raccolgono in fondo nella punta della crisalide perché sennò sarebbe come farla nel piatto in cui si mangia ecco un'altra specie è questo il minotero itoplectis alternans vedete anche in questo caso nel momento di lovide posizione da parte della femmina all'interno del corpo della vittima questo invece vedete è un endoparassitoide ma non solitario ma gregario perché si sviluppano sei individui mediamente all'interno del corpo della crisale della tignoletta citata del di brachis affinis e poi abbiamo anche per concludere sul discorso di limitatori naturali i ragni come predatori delle tignole perché soprattutto i ragni durante l'autunno e l'inverno sono in grado di predare attivamente le crisali disvernanti delle tignole e quindi possono rappresentare nell'agroecosistema diciamo dei limitatori che anche hanno anche loro il loro ruolo infine abbiamo i funghi etomopatogeni che sono in grado di colpire larve ma soprattutto crisalidi e vedete che tra questi il pecilomice sfarinoso se quello che svolge il ruolo predominante ecco qui delle crisali di imbiancate invase dalle ife fungine di questi funghi etomopatogeni però ci facciamo una domanda ma abbiamo detto le strategie di difesa possono in qualche modo influenzare l'attività di questi nemici naturali guardate qualche anno fa abbiamo preso un vigneto una parte l'abbiamo trattato con bacilli o storringensi su una parte abbiamo trattato con esteri fosforici quelli che adesso non abbiamo più a disposizione sia per la seconda che per la terza generazione guardate i risultati mortalità naturale nel bacillo storringensi siamo sul 59 metà negli esteri fosforici parassitizzazione 46 21 e 5 questo sulla prima guardate sulla seconda dati molto simili sulla terza la quella svernante insomma possiamo assolutamente dire da questi dati che le strategie di difesa influenzano l'attività dei nemici naturali non solo come tasse di presa di parassitizzazione ma anche come numero di specie quindi anche dal punto di vista qualitativo quindi come biodiversità ed è questo molto importante e la prima generazione può incidere su questa su questi nemici naturali certo che può incidere perché guardate la prima generazione qui e sono i dati in un vigneto dove non si tratta mai la prima generazione può rappresentare un volano per dare la possibilità questi nemici naturali di svilupparsi e di insediarsi in quell'agroecosistema quindi la prima generazione molto spesso non è dannosa no quindi il fatto che ci siano un po di prima generazione di tignoletta ci può aiutare in questo senso per dare la possibilità ai nemici naturali di insediarsi nei nostri ambienti e qui dicevamo per dire della catena trofico alimentare guardate eravamo in prima generazione dentro un glomerulo questo è un bozzoletto ma era ovvio che non è un bozzoletto di tignoletta noi lo conoscevamo è un bozzoletto di un i menotero i cneomoni della trano mesamella prerogato però noi sapevamo che di solito la l'apertura veniva poi qua nella parte terminale in questo caso c'è un foro molto più piccolo al centro cos'era successo è successo che qui c'è un fenomeno di iperparassitismo la larva di tignoletta fitofago è stata parassitizzata da un parassitoide primario un i menotero i cneomonide che vediamo qui si chiama trano semella prerogator in questo caso possiamo vedere l'adulto questo è un maschio presente su una foglia poi cosa può succedere che a sua volta questo parassitoide primario viene colpito da un parassitoide secondario in questo caso si tratta di la smide l'elasmus stefani e a sua volta parassitizzato da una vespetina ancora più piccola un parassitoide terziario le eutetranicus ametistinus quindi vedete che ci possono essere diciamo delle complessità delle catene trofiche alimentari particolarmente importanti all'interno dei nostri vigneti e vedete infatti che nei vigneti dove non si tratta con insetticidi la mortalità può raggiungere anche il 92 per cento e perché perché le infrastrutture ecologiche possono rappresentare un aspetto importante e l'ultima cosa di cui volevo parlarvi se ho ancora qualche minuto al volo è proprio questa la biodiversità funzionale e l'uso delle piante né tarifere nei vigneti cioè l'idea è questa ci sono diverse specie vegetali o miscuglio di piante che possono incentivare la presenza di entomofauna utile nel sistema vigneto perché perché attraggono specie utili perché possono essere sito di rifugio perché possono essere sito di mantenimento degli ausiliari in particolare per i parassitoidi e ok queste piante né tarifere richiamano gli adulti che hanno una diciamo comportamento alimentare proprio sui fiori e poi invece le larve sono dei parassitoidi su nemici naturali di insetti fitofagi e allora abbiamo questo per esempio tra un filare un filare è possibile per esempio introdurre in questo caso il favino in questo caso vedete una faccia facelia in fiore vedete sempre seminato tra filare filare oppure in questo caso vedete un trifoglio incarnato in fiore oppure la lisso però nella maggior parte di casi le esperienze importanti sono quelle di fare dei miscugli i miscugli di erbe né tarifere da seminare in maniera selettiva nell'interfilare perché possono rappresentare diciamo un aumento della complessità dell'agroecosistema e voi sapete che in ecologia l'aumento della complessità porta anche a un aumento della stabilità del sistema questo vedete un miscuglio non ancora rullato quindi che è arrivato anche a una produzione di massa vegetale non da poco naturalmente con tutti i vantaggi che poi ci sono nella struttura del terreno ma noi ci limitiamo a dare un'occhiata a quello che riguarda i limitatori naturali delle tignole guardate in questo caso abbiamo fatto un'esperienza dove abbiamo messo in confronto tre tesi preso un vigneto con dei blocchi randomizzati con quattro ripetizioni dove abbiamo fatto una copertura vegetale con un miscuglio senza rullarlo in altro caso l'abbiamo rullato e l'abbiamo messo in confronto con un terreno lavorato guardate la presenza di xantandrum contus quel ditterosirfide predatore le larve predano che vi ho fatto vedere prima vedete la presenza più importante è proprio nella tesi 1 e 2 sia con la tecnica di aspirazione entomologica con l'aspiratore entomologico che con le cromotrapole gialle e quindi ci sono differenze statisticamente significative questo vuol dire che nelle tesi dove noi abbiamo seminato questi miscugli di piante netterifere la presenza di questi insetti predatori è significativamente maggiore se andiamo a vedere un altro parassitoide che è la scogassa di quadri dentata quello che vi ho fatto vedere prima endoparassitoide solitario di tignoletta in questo caso un'esperienza mettendo a confronto una copertura vegetale cover crop con un inerbimento spontaneo sfalciato guardate le differenze vedete che soprattutto in luglio e in agosto queste piante netterifere richiamano gli adulti di questi insetti che per noi sono importanti in questo altro caso vedete sempre quest'altra esperienza anche in questo caso il cover crop con la semina autunnale ha dato un numero di presenza di questi insetti utili statisticamente significativo come aumento e questo è stato molto importante la fitomettera migrina questo diterotachinide endoparassitoide solitario di tignoletta quello che abbiamo chiamato prima la mosca nera assassina anche in questo caso vedete la presenza della copertura vegetale richiama questi insetti oppure i ragni ecco qua vedete che anche i ragni sono maggiore come presenza proprio dove c'è stato fatto una copertura vegetale con piante netterifere insomma la gestione dell'innerbimento controllato con piante netterifere selettive come per esempio questi miscugli tra le leguminose che ha importanza c'è la vecchia il favino il trifoglio incarnato perché richiamano insetti utili come il calcidioidei braconidi tra le graminace abbiamo l'avena perché richiama sirfidi e carabidi che sono dei coleotteri predatori che vivono nel terreno tra le poligonace abbiamo il grano saraceno anch'esso importanti per sirvidi e carabidi tra le brassicace abbiamo quello che vi ho fatto vedere quella quella alisso che resta basso con dei fiori molto profumati che richiama calcidioidei cucinelli di infine la faceglia che richiama poidei api e pronubi e sirfidi insomma diciamo così che le infrastrutture ecologiche le aree di compensazione ecologica da sole certo non possono risolvere i problemi fitosanitari legati alla tignolette ma possono contribuire alle strategie di difesa sostenibile qui infine vi ho riportato dei video che potete trovare sul link youtube agrea e riguardano le tignole della vite e i loro antagonisti e con questo vi ringrazio della vostra attenzione e sono disponibili per eventuali richieste e domande approfondimenti grazie enrico per la bellissima presentazione che ci hai fatto soprattutto per questi ultimi aspetti che non sono sempre molto molto chiare e così ben approfonditi dunque io chiedo se ci sono domande sì ce n'è una dunque in realtà credo sia stata già perché ci chiedevano ci chiedeva della cripto parla e forse tu spettatore può aiutarci perché direttamente dal vivo hai questo problema da risolvere allora questo è un problema che da qualche anno soprattutto da noi abbiamo fatto anche attività di monitoraggio su questi insetti le trappole al comune sono molto efficace che si riesce a costruire il mondo dunque a differenza di quello che vi hai fatto vedere di un rispetto da alcuni uffici di uno strato dove dove si accavallano per un piccolo periodo nel caso invece della cripto parla troviamo nella situazione che c'è uno sfasamento tra questi voli e quindi questo crea un proprio per me nemmeno nella strategia di l'occhi questa è una prima considerazione anche relativamente quella che tu hai mostrato e importanza di fare una lotta miglata il timing molto preciso e molto preciso poi devo dire c'è anche il collega andrea lucchi di quisa che sta studiando abbastanza profondamente in questo problema un altro aspetto che non si riesce bene bene e che diciamo l'insetto compare in quantità tali da poter creare danni quindi fa danni soprattutto diciamo sull'uva in fase di invagliatura quindi fino ad agosto solitamente non si trovano danni non si trovano stati biologici dell'insetto sul 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 grappolo però poi a un certo punto ecco esplodono i danni e quindi non si sa da dove proviene come si muove perché è come dicevi tu è un insetto estremamente polifago quindi a differenza della lobesia dove per quanto polifaga comunque si riesce a seguire all'interno del vigneto in maniera ben precisa ben dettagliata quello che è l'andamento del volo nel caso della cripta blabes invece diciamo fa un po queste compare in maniera improvvisa e dannosa questo sicuramente ormai è assodato nel senso che sono diversi anni che notiamo dei danni importanti perché come dicevi sono intere porzioni del grappolo che vengono che disseccano e soprattutto poi queste larve vanno all'interno del del grappolo quando ormai è chiuso e spesso si ritrovano anche decine di larve all'interno di uno di uno stesso grappolo quindi il danno diventa praticamente è difficile da controllare e soprattutto di grossa entità diciamo questa è un po la situazione noi devo dire abbiamo cercato anche ecco di vedere un po che prospettive ci sono diciamo e allo studio anche l'applicazione di confusione della confusione sessuale in questo in questo insetto ci sono delle prove sperimentali che si stanno conducendo il ferromone è un composto abbastanza difficile da sintetizzare perché ha una doppia insaturazione quindi chimicamente un po più complicato da ottenere per cui però poi bisognerà valutare anche i costi di questo tipo di strategia certamente ecco sta mettendo un po in difficoltà anche la confusione sessuale che si fa contro l'alobesia per certi versi perché appunto si può fare la confusione sessuale sulla l'alobesia però se poi dobbiamo trattare ecco qualcuno incomincia ad avere un po un po di dubbi sulla su come gestire al meglio questi due fitofagi contemporaneamente sicuramente è un problema molto sentito al sud questo non c'è dubbio federica vedi sì nel frattempo sono arrivate altre due domande non so se riesce a visualizzarle altrimenti le leggi di tutta fede dunque allora al sud in ambiente caldo arido consiglierebbe comunque l'inerbimento controllato chiede il dottor te palma in ambiente caldo arido è allora lì bisogna vedere naturalmente se c'è disponibilità di acqua di acqua di irrigazione oppure no e poi si può fare una scelta adeguata delle specie per gestire anche questo aspetto dell'aspetto della gestione dell'acqua e dell'acqua insomma bene e poi c'è un'altra domanda del dottor nunez che dice si nota una differenza nella suscettibilità delle varietà di uva all'attacco di cripto blades migliella ma guarda questo ancora noi non l'abbiamo valutato in maniera attenta ma presumo che ci possono essere un po di una diversa suscettibilità sicuramente delle piccole differenze ci possono stare però diciamo non ho alla mano in questo momento non vedo altre domande solo tanti complimenti per l'organizzazione del webinar largamente molto interessante relatore molto preparato e soprattutto molti molti si congratulano per le bellissime foto e per i video che sono stati mostrati vi ricordo che comunque la registrazione di questo webinar è disponibile sul canale youtube dell'associazione italiana per la protezione delle piante ho inserito nella nella chat il link sia del canale youtube che della pagina per iscriversi all'associazione io a me non resta che ringraziare tutti e passa la parola al vicepresidente don franco romanazzi per la chiusura dell'evento ringrazio veramente il relatore è stato veramente molto molto bravo e chiaro ho rincascato le mie conoscenze tomologiche che erano rimaste un po appannate le diverse pignole della vita ringrazio il professor germinara per aver moderato l'incontro la brillante federica e il dottor arturo caponiero che è il coordinatore della comunicazione di ip e così facendo ci diamo il 27 agosto la 17 buona serata a tutti grazie grazie a tutti buona serata grazie